Calupo mi hanno detto che stamattina c'è caffè gratis per tutti perché poi viene Bonaccini a pagare Vai, caffè di gruppo, venite ragazzi Ma andiamo a casa al PD e regaliamo un bel sogno di libertà e di lavoro a tutta l'Emilia Romagna Un inverno è già passato e non ti sei fermato mai Comunque qui parlano di lei e di una melodia Ma non sai che cosa può Spoderiamo l'aria Se Berlinguer con messi sulla terra vedesse Renzi e Gingaretti sapete quante le direte a questa gente qua Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Sarò processato in un tribunale italiano perché ho bloccato uno sbarco Se processeranno me, processeranno anche tutti voi Se mi devono condannare alla galera non mettetemi un cancere Qua Non vi nascondo che se si vince in Emilia Romagna dopo 70 anni la prima cosa che succede è che se ne vanno a casa Conte, Renzi, Di Maio e Gingaretti dopo un quarto d'ora Grazie a tutti Grazie a tutti